Come si fa a fare un video virale? Ma chi? Non è che uno fa i video virali così, eh? Mettiamoci i gattini! Mettiamoci le fighe! Fighe? Le risse nei bar! Mettiamoci le fighe, Marco! Incidenti mortali! Mettiamoci tutto! Come tutto? Tutto! Alla fiera del web per due like Bimbo buffo una blogger postò E venne un gorilla che accarezzò il bimbo Che su YouTube una blogger postò Alla fiera del web per tre like Una tettona in slow motion saltò E venne un ubriaco che inciampò sulla tettona Che eccitò il gorilla che perse d'occhio il bimbo Che su YouTube una blogger postò Alla fiera del web In diretta Un bestemmione Un giornalista tirò Ma cos'è sto telefono, porco? Venne un calciatore Che segnò da centro campo Che abbracciò il giornalista Che scacciò l'ubriaco Che palpò la tettona Che limono il gorilla Che allattò il bambino Che su YouTube una blogger postò Alla fiera del web Per trenta like Un rapper gay la sua carriera inizio E tornò il militare che riabbracciò la moglie Che commosse il rapper Che toccò il calciatore Che imitò il giornalista Che brindò con l'ubriaco Che strippò sulla tettona Che castrò il gorilla Che mangiò il bambino Che su YouTube una blogger postò Alla fiera del web Una bimba prodigio Il flauto magico di Mozart cantò E venne un giocoliere da tre anni a testa in giù Che incantò la bambina Che cercò il militare Che tuercò alla moglie Che saltò sul rapper Che crollò sul calciatore Che finì sul giornalista Che spogliò l'ubriaco Che stupilla tettona Che chiamò il gorilla Che digeri il bimbo Perché su YouTube una blogger postò POSTA Alla fiera del web Per la gloria Un epic fail di questo video fa Poi No A Alottio, alottio. Dai, dai, dai... Dai ci fa... Ti tenimi in posizione. I miei helmi. condividi 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 adesso condividi ora